Arrivano alzando un mitra mentre il mondo alza le spalle. Le cronache degli ultimi mesi hanno descritto le brutalità in ordine sparso, perpetrate specie contro i cristiani siriani dai jihadisti del cosiddetto Stato Islamico, senza che ciò provocasse per troppo tempo nessuna reazione. Una sanguinaria rincorsa, quella terrorista, a una visione già sconfitta dalla storia, ma la cui follia viene pagata oggi da famiglie, bambini, vecchi, che un giorno sono tranquilli nel loro villaggio e il giorno dopo profughi senza più né casa né un domani. Di loro, con la preoccupazione di un padre e un fratello, ha parlato lunedì Papa Francesco durante il concistoro dedicato al Medio Oriente e alle sue endemiche fragilità, con i patriarchi, cardinali e vescovi provenienti dalle diocesi dell'area, il Papa si è soffermato su quella che sembra al momento una deriva inarrestabile di violenza ed esolazione. Assistiamo a un fenomeno di terrorismo di dimensioni prima immaginabili. Tanti nostri fratelli sono perseguitati e hanno dovuto lasciare le loro casse anche in maniera brutale. Sembra che si sia persa la consapevolezza del valore della vita umana, sembra che la persona non conti e si possa sacrificare ad altri interessi e tutto ciò purtroppo nell'indifferenza di tanti. Indifferenza non della Chiesa, che ha assicurato il Papa, continua a coltivare il desiderio di pace, di stabilità in Medio Oriente e la volontà di favorire la risoluzione dei conflitti attraverso il dialogo, la riconciliazione e l'impegno politico, assieme alla volontà di dare il maggiore aiuto possibile, ha detto, alle comunità cristiane per sostenere la loro permanenza nella regione. Come ho avuto occasione di ribadire a più riprese, non possiamo rassegnarci a pensare il Medio Oriente senza i cristiani, che da duemilla anni vi confessano il nome di Gesù. All'appello del Papa e seguita l'analisi geopolitica del segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin ha messo sotto la lente le diverse facce della crisi medio orientale, a partire dalle situazioni in Iraq e Siria e i relativi drammi umanitari. La Chiesa, ha detto, non può rimanere in silenzio di fronte alle persecuzioni sofferte dai suoi figli e da tante persone innocenti, così come va disarmato chi sta asseminando la morte, togliendo appoggi politici e spezzando la fornitura di armi e finanziamenti che derivano dal commercio illegale del petrolio. Si è ribadito che è lecito fermare l'aggressore ingiusto, sempre però nel rispetto del diritto internazionale, come ha affermato anche il Santo Padre. Tuttavia si è visto con chiarezza che non si può affidare la risoluzione del problema alla sola risposta militare. Esso va affrontato più approfonditamente, a partire dalle cause che ne sono all'origine e vengono sfruttate dall'ideologia fondamentalista.